Ciao a tutti, io sono WeeDog e questo è un gameplay, come potrete vedere, su Inverbi Spiritus. Chiunque di voi conosca Duple conoscerà sicuramente questo gioco, chiunque lo segue avrà visto la sua recensione, quello che era. Dato che mi interessava come gioco e dato che era stato creato da degli sviluppatori italiani, anche a me è andato di cavolo sta musica. E' bella sì però, oh. A cambio andava di, diciamo, giocarci, vediamo un po' come va. Molto interessante questo gioco perché non credo che sia mai uscito un gioco del genere. Ok. Move the mouse to look around. Ok. And word pressione. Quasi due tipi. Vabbè. I classici comandi di un gioco. Ah, si può anche correre. Così. Ah. Questa è ancora una versione molto, sì, questa è una versione ancora molto scarsa, diciamo. Non ci sono entità, però dicono che a breve, cioè a breve, nelle prossime versioni vi introdurranno. Tra i quali la Beast che è un grande mostro e il Savage che è un piccolo mostriciattolo che in gruppo, dopo te fa un casino. Ecco, questa è la stanza delle frasi d'attivare. Dopo c'è questa. Devo dire che hanno fatto un ottimo effetto di grafica, cioè, è vero che la grafica in un gioco non punta, non è l'unica cosa che punta. Però, cioè, è un buon lato positivo. Infatti, inoltre, a quanto pare, c'è anche una buona giocabilità, c'è un buon gameplay. E il suono non è male, quindi, diciamo, come gioco va più che bene. E sono stati degli italiani, infatti. Ah, giusto. Una cosa che non c'entra nulla, però vorrei ringraziare Vinci and Alex, che sono stati i miei venticinquesimi iscritti. E guarda caso, si sono iscritti al mio canale a Pasqua, e quindi sono diventati 25 iscritti per la Pasqua. E quindi vi ringrazio, Vinci and Alex. In queste cose... Let there be light. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Ok. Lagga un po'. Come... Come chiamolo? Ah. Ah. Ok. Ste colonne così, vista che c'è. Do. Ok. 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 Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo gioco, perché secondo me è una idea molto buona. che potrà... che potrà... dalla quale potrà nascere qualcosa di molto interessante. Oh, porca! Oddio! Eh, non era nulla, tranquilli. sì. Nuova. Nuovo magia. Beam of light. Beam of light. Beam of light. Beam of light. ok qui c'è la stanza magica queste cose io non ho già visto non ho già visto in qualche parte ecco in questo punto non ho capito a chi serve questa magia non mi ricordo come si chiama marco quindi follow my will vabbè follow my will follow my will non ho capito se il lag oppure follow my will follow my will dio ma che dove si vedevano le pagine oddio follow my will can do you comment with follow my will follow my will dio oddio follow my will follow my will mi sembra un deficiente mi sembra un deficiente ok no non ha funzionato dio no follow my will follow my will follow my will follow my will oddio oddio a questo non è un problema del gioco vorrei sottolinearlo ma è semplicemente il mio microfono che fa schifo sto usando il microfono del mio computer infatti infatti non è uno dei migliori non è uno dei migliori si chiuderà questa porta no bene oh il gioco dei cristalli questo mi piaceva allora bisogna muoverne qualcuno tipo quello dove c'è questo simbolo si muovono i cosi follow my will ma chi no follow my will follow my will follow my will follow my will oddio ma stop ma che cavolo oddio ma che cosa è successo follow my will ho rotto il coso ho rotto aiuto forse prima bisogna fare tipo una cosa all'altra beam of light beam of light il raggio è perso di là quindi ti potremmo sbattare qualcosa di là che vuole quello rosso che vuole quello rosso follow my will con sta magia veramente oh follow my will follow my will follow my will oleee ha funzionato vediamo se funziona pure questo follow my will follow my will follow my will follow my will ma che lo devo rimettere dritto come si rimette dritto come si rimette dritto aiuto l'ho rotto follow my will follow my will ma no ma sempre questo ma no ma sempre questo follow my will follow my will follow my will follow my will noo l'ho buggato no no oddio ok ricominciamo da qua follow my will follow my will follow my will oh ma che oh ok così quella porta è un po' fantastico momento di lag ora dai non lo voglio rompere qualcosa di nuovo dov'è dov'è quello schifo dimmi dov'è tipo di qua è si ecco follow my will 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 ok ok pure questo follow my will 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 siiii bisogna farlo con questo tono di ah sono meglio io beam of light però Vai che è aperta Da che parte si passa? BIMOF LIGHT E adesso... VIO! FOLLOW MY WILL FOLLOW MY WILL FOLLOW MY WILL VATTE NE VIA FOLLOW MY WILL FOLLOW MY WILL Questo cavolo di cosa è inutile Non c'è un altro modo per passare FOLLOW MY WILL FOLLOW MY WILL Vabbè BIMOF LIGHT A quanto pare se rilascio funziona FOLLOW MY WILL 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 Vai Mind Over Matter Mind Over Matter Oh Questo è potente Mind Over Matter Go Away Go Away Go Away Vabbè Non potrò mandarle via Tra l'altro Le colonne non si rompono Ma di cosa sono fatte Vabbè Oh si l'enigmetto Allora Mind Over Matter Oddio Qual'era Follow my will Oh la prima botta Un po' finalmente se ne impara Ah ok Mind Over Matter Vieni qui Come to me Come to me No Detto come to me Dai Mind Over Matter Go Away Go Away Go Away Go Away Ho detto Go Away Ok Go Away Go Away Ancora Go Away Ok Boom Follow my will Follow my will Follow my will Solo con il rilascio Funziona OLE Mind Over Matter Ma guardate che mano strana La mano Di un'esploratura E finisce qui Questo breve Breve Penso No Gameplay In Vermis Virtus Un bel gioco Questo problema Con follow my will Probabilmente ce l'ho soltanto io Perché Ho visto un video In cui Tutti i video che ho visto Non erano così E penso proprio sia Il mio Schifosissimo Microfono Questo qua Questa schifezza Vabbè Ditemi un po' Cosa ne pensate voi Del gioco Magari provate Non metterò il link Potete scaricarlo Metterò il link Di Indomitus Game In descrizione Ed iscrivetevi In i commenti Cosa ne pensate Vabbè Ciao Al prossimo video